Grande successo per la serata delle Fonti Awards, tenutasi lo scorso giovedì 23 maggio nella splendida cornice di Palazzo Mezzanotte a Milano con il patrocinio della Commissione Europea. La cerimonia di premiazione è stata preceduta da un CEO Summit dal titolo Evoluzione Digitale e Mercato Assicurativo, quali prospettive per il futuro, che ha visto l'interessante confronto dei esperti del settore. La serata è poi proseguita con la cerimonia di assegnazione dei premi condotta da Manuela Donghi, giornalista di Le Fonti TV, con la partecipazione esclusiva dell'attore e presentatore Germano Lanzoni. La serata delle Fonti Awards è stata interamente dedicata all'evoluzione del digitale e alle possibili sinergie con il mondo delle assicurazioni. di WF Italia. Per l'assistenza garantita sia in materia giudiziale che in regularity, strada giudiziale, nelle principali compagnie sindacati del mercato degli OITS di Londra e intermediari, per la rilevanza di mandati e la capacità di anticipare le necessità di una clientela esigente che confermano anche nel mercato italiano la leadership globale dello studio nel mondo insurance. Che motivazione però, complimenti. A lui è fighissimo, posso dire che a lui è fighissimo. Sì tu, non perché siamo amici su LinkedIn, ma perché foto... Va bene. Fatta la foto? Grazie. Fatta la foto, complimenti anche a voi, grazie e buona serata. Grazie, buona. Grazie a voi. Avvocato Cerretti, di WF Italia si è giudicato i Le Fonti Awards 2019 come studio dell'anno insurance. Come commenta questa vittoria? Questa vittoria è il riconoscimento per il duro lavoro che abbiamo svolto in questi ultimi 12 mesi per confermarci e consolidarci come punto di riferimento legale per le compagnie assicurative e riassicurative e per gli intermediari. Ci tengo a condividere questa vittoria con i soci, dello studio che hanno sempre supportato l'attività del team insurance da me guidato e soprattutto con il mio team, senza il quale non sarei e non saremmo qui oggi. Siamo molto onorati di ricevere questo premio da una testata autorevole come Le Fonti in una serata come questa dedicata al mercato assicurativo. Quindi vi ringraziamo per questo riconoscimento di questa sera e per questo premio. Il vostro studio è considerato in tutto il mondo leader indiscusso nel diritto assicurativo. Quali sono le tematiche più interessanti e innovative del mercato assicurativo di cui vi state occupando in questo momento? Allora, il DWF sicuramente è uno studio molto presente nel settore assicurativo a livello internazionale e per quanto riguarda il nostro team che è composto attualmente da 8 professionisti dedicati alla materia assicurativa su un totale di 40 avvocati che attualmente lavorano presso DWF Italia. Opera soprattutto in ambito di contenzioso assicurativo, quindi gestione di sinistri complessi, soprattutto in ambito di financial lines e responsabilità professionale, ma anche in ambito stragiudiziale. Cerchiamo di rimanere sempre al passo con le novità legislative. Nell'ultimi 12 mesi abbiamo lavorato molto in ambito IDD, quindi in ambito di distribuzione assicurativa. Abbiamo lavorato molto sulle polizze W&I, che sono delle polizze molto innovative a copertura delle rep and warranties dei contratti di M&A. Abbiamo lavorato in ambito cyber, quindi abbiamo strutturato dei prodotti innovativi in ambito di cyber risk e ci stiamo attrezzando per assistere i nostri clienti anche in ambito insurtech. Questo in team con i nostri colleghi di DWF Italia che si occupano di fintech. Quindi cerchiamo di essere sempre aggiornati, di poter fornire il servizio migliore ai nostri clienti sulle tematiche più attuali. Certamente il DWF è uno studio molto presente nel settore assicurativo, non solo in Italia grazie al nostro team, ma anche a livello globale. Infatti la practice insurance rappresenta il 45% del fatturato a livello globale, il che è qualcosa di abbastanza peculiare per uno studio internazionale, dato che l'ambito assicurativo di norma è ancillare rispetto alle altre practice. Il DWF invece ha proprio nel suo DNA il settore assicurativo, nasce 40 anni fa in Inghilterra come insurance law firm e poi ha sviluppato anche le altre practice. Però il DNA fondante di DWF è proprio quello dell'ambito assicurativo. DWF è uno studio relativamente giovane in Italia, ha aperto un anno e mezzo fa i battenti qui a Milano, è partito da un team di 10 professionisti e in un anno e mezzo ha già raggiunto e superato la soglia dei 40 professionisti, quindi è una crescita molto rapida che ha lasciato sorpresi anche noi soci perché non ci aspettavamo anche di ricevere questo interesse non solo da parte di clienti ma anche da parte di avvocati di altri studi e stiamo anche sviluppando l'ambito dei cosiddetti connected services che sono una peculiarità di DWF. In breve, DWF non è solo uno studio legale ma è un cosiddetto legal business, quindi prevede un core business che è quello dello studio legale, ma ha intorno a questo settore principale i cosiddetti connected services che sono società collegate e che hanno come scopo quello di dare un servizio a 360 gradi soprattutto alle compagnie assicurative. Quindi parliamo di una società di cosiddetto TPA, third party administrator che sono coloro che gestiscono i sinistri nella fase di precontenzioso, c'è DWF adjusting che sono i cosiddetti loss adjuster o più comunemente definiti nel mercato italiano periti assicurativi, c'è una software house che si chiama DWF 360 che sviluppa software per la gestione dei sinistri, quindi una serie di, diciamo una corona di connected services che va a completare l'offerta in aggiunta a quella che è l'offerta tradizionale appunto di uno studio legale. Quindi ci tengo a sottolineare questa peculiarità perché è innovativa nel mercato inglese, quindi ci possiamo immaginare quanto lo è nel mercato italiano che viene sempre un po' come dire, in ritardo rispetto al mercato anglosassone. Quindi quali sono gli obiettivi di crescita che vi ponete sul mercato italiano nel settore insurance? I obiettivi di crescita sono appunto quelli di, da un lato di continuare a consolidare il lavoro che abbiamo svolto negli ultimi 12 mesi, ma anche continuare a sviluppare non solo il team legale appunto che io dirigo, ma anche il settore dei connected services, come abbiamo detto. Grazie infatti alla quotazione in borsa di DWF, perché non so se lo sapete ma DWF a marzo si è quotato alla borsa di Londra ed è il primo studio legale al mondo ammesso al mercato principale della borsa londinese, abbiamo una serie di risorse finanziarie che ci permettono di guardare anche ad alcune società da acquisire per andare a rafforzare i connected services. Quindi il nostro obiettivo è quello di diventare sempre di più nei prossimi 12 mesi e negli anni a venire ovviamente un obiettivo di lungo periodo, diventare un polo di riferimento per quanto riguarda le compagnie assicurative, riassicurative e gli intermediari assicurativi, che potranno trovare in noi un unico punto di riferimento per le loro necessità in ambito legale, in ambito di gestione di sinistri, in ambito peritale e in ambito ad esempio di auditing assicurativo. Vorremmo sviluppare anche una partnership con dei professionisti su Roma per ampliare anche la nostra presenza a livello geografico in Italia. Quindi insomma un obiettivo molto ambizioso che è quello di diventare un punto di riferimento unico, un unico interlocutore per il mercato assicurativo. Abbiamo anche l'obiettivo di sviluppare la practice tax relativa al mercato assicurativo, il che sarebbe una peculiarità per uno studio legale. Quindi una complessità, una globalità di servizi a beneficio delle compagnie assicurative e degli intermediari.